C'è che in Liguria sappiamo tutti che poi il vero avversario della Paita e i 5 Stelle non è Toti, nessuno crede a Toti, cioè Toti così non lo so, non ci crede neanche Berlusconi penso. Però intanto è avanti nei sondaggi. Scusa? Intanto è avanti nei sondaggi. No, non è vero, non possiamo parlare dei sondaggi purtroppo perché c'è il divieto comunque. C'è il divieto di parlare dei sondaggi perché se non lo facciamo meglio non possiamo farlo, va bene, quindi non possiamo farlo, però diciamo tutti noi sappiamo. Allora fino a quando c'erano i sondaggi era avanti. Esatto, sì va bene, nei sogni della Ghisleri e di Berlusconi. Comunque tutti noi sappiamo qual è il vero pericolo, il vero pericolo si chiama Beppe Grillo.